benvenuti a tutti sul canale di quattro ruote oggi sono in compagnia di un'auto molto particolare perlomeno sotto un punto di vista ovvero il prezzo 27.900 euro per portarsi a casa una SUV di segmento C con una dotazione stra mega completa dunque se anche voi come me siete super curiosi di capire come è fatta dentro come è assemblata e anche come va su strada mettetevi comodi e noi ci vediamo dopo la sigla se non l'avete ancora riconosciuta perché ne abbiamo parlato tantissimo sulle nostre pagine lei è la omoda 5 si affaccia quindi sul mercato italiano questo nuovo brand omoda appunto che vuole fare concorrenza ai brand diciamo più noti chi è omoda omoda è un marchio che fa parte in realtà del più grande colosso sherry un marchio molto in voga in cina e che tra l'altro non è nuovo alle nostre latitudini tant'è che da tanti anni fornisce le auto al gruppo dr di risio adesso però il brand sherry ha in mente di entrare sul nostro mercato con dei suoi modelli dedicati e lei la 5 è proprio il primo di questa offensiva e allora io come al solito comincerei dalle dimensioni per inquadrarla un po 4 metri e 37 da un paraurti all'altro siamo praticamente nelle dimensioni centimetro più centimetro meno di una nissan cash kai e devo dire che un po le somiglia soprattutto al posteriore ma ci torniamo tra un attimo intanto mi concentro sulla parte frontale che poi è quella che davvero contraddistingue questa omoda 5 la calandra è enorme questo effetto 3d dato da tutta una serie di diamantini cromati all'interno della calandra barra cromata anche per quanto riguarda la firma luminosa che infatti si estende fin qui e poi le luci anabbaglianti e abbaglianti posizionate più in basso come sta facendo qualche altro costruttore su vetture di ultima produzione per quanto riguarda poi la fiancata beh non c'è nulla da segnalare o non ci sono comunque cose particolari da dire non ci sono scalfature che vanno un po a giocare con la luce per quanto riguarda la lamiera tutto è molto pulito e lineare la spalla è alta e bassa la finestratura e poi si arriva qui in coda con questo gioco ormai da SUV coupé come si usa a fare ultimamente ma la cosa particolare di questa omoda 5 che ha questa parte nera per tutte le versioni che in qualche modo solleva tiene separata la parte del tetto dalla parte poi di fiancata un po come se il tetto fluttuasse il posteriore ve lo dicevo mi ricorda un po non so voi ecco ditemelo qui sotto nei commenti una Qashqai perlomeno nella firma luminosa scritta grandissima caratteri cubitali come si usa a fare adesso e poi gli scarichi immancabili che in questo caso sono finti ma sotto visto che quest'auto monta un 1600 turbo benzina per il momento solo questo motore ci sono poi due terminali di scarico occultati lato cerchi non c'è tantissima scelta si parla di un 18 pollici con 215 55 di spalla quindi piuttosto generosa e poi questi cerchi dedicati che sono in lega ma hanno queste paratie li chiamano petali qui in omoda che servono a rendere più aerodinamico il cerchio quando l'auto è in movimento e allora dicevamo 27.900 euro si parte da questa cifra in realtà sul mercato italiano le proposte a livello di listino sono due la comfort oppure la premium che però costa 29.900 euro comunque al di sotto dei 30.000 euro che poi è quella che state vedendo nelle immagini differiscono per pochi dettagli aggiuntivi le due versioni ma ad ogni modo io sono curioso adesso di andare a scoprire insieme a voi come fatto questo interno per capire se per questa cifra bisogna rinunciare a qualcosa oppure tutto sommato l'abitacolo è ben confezionato e allora mi siedo come al solito porta chiusa ci isoliamo dal mondo esterno per raccontarvi bene come si sta all'interno di omoda 5 io accendo anche la macchina perché comunque la temperatura qui dentro non è certo bassa fa ancora caldo e dunque come stanno le cose anzitutto si trovano questi due grandi schermi 12,4 pollici ognuno collegati quindi il motivo sostanzialmente è bello da vedere unico la grafica mi sembra molto chiara e soprattutto diciamo offre tante informazioni già tutte sott'occhio si possono ovviamente modificare in base alle necessità in questo caso sto giocando con il trip computer c'è anche poi la parte relativa alla pressione delle gomme il trip ha insomma tutta una serie di funzioni gestibili velocemente dai tasti sul volante che sembrano a sfioramento ma in realtà sono a pressione e questo devo dire che è un bene perché altrimenti si rischia di pasticciare sempre sfiorando questa zona una cosa che proprio non ho capito sono i comandi del volume sapete dove sono posizionati a sinistra del volante sulla cornice della strumentazione digitale praticamente li può adoperare solo il guidatore più a destra c'è il sistema di infotainment anche in questo caso la grafica chiara devo dire un po tipica delle auto made in cina o meglio me la ricorda tanto questa cosa e dicono in omoda che dentro sia installato un processore snapdragon quindi uno dei più veloci attualmente a disposizione delle auto e che quindi il tutto dovrebbe girare velocemente così ad occhio in questo primissimo primo contatto posso dirvi che le cose stanno come effettivamente ha suggerito omoda cioè tutto fila abbastanza liscio non vedo e non percepisco particolari problemi o lag all'interno del sistema e mi sembra che insomma giri tutto velocemente le icone a gusto mio potrebbero essere forse un po più definite e un po più riconoscibili all'occhio però alla fine anche in questo caso basta farci un minimo d'abitudine per avere poi tutto sotto mano devo dire che è particolare questa modalità che si chiama pista modalità SPORT del resto la chiama modalità SPORT che attiva questo sound generator che esce lì dagli speaker e all'interno dell'abitacolo si sente un'accelerazione così diciamo virtuale che dovrebbe in qualche modo forse rendere il tutto un po più sportivo modalità eco io ecco non amo particolarmente queste cose però modalità normale si può giostrare con queste tre modalità di guida fa un po simpatia sentire la voce che non riesce a pronunciare per intero la parola eco o sport ma tante magari forse in un prossimo aggiornamento le cose cambieranno per quanto riguarda invece i materiali qui forse mi sono dilungato un tantinello troppo nato infotainment anche in questo caso sotto i polpastrelli tutto è bello morbido anche in questo caso le cuciture anche in alto la plancia è ben fatta e anche qui troviamo poi questo simil legno che impreziosisce un po la plancia in mezzo c'è un grosso tunnel che separa i due sedili tunnel che tra l'altro è diciamo forato qui nella parte bassa e consente di andare a riporre diversi oggetti che magari non si sa dove sistemare ci sono anche le porte usb e usb c per il cellulare oltre al fatto che qui in verità c'è una ricarica wireless da ben 50 watt una delle più potenti in commercio quindi dovrebbe ricaricare velocemente il cellulare e qui visto che è facile a questo punto che si surriscaldi il tutto c'è una ventolina che butta aria fresca proprio per evitare che il cellulare possa raggiungere temperature prossime a quelle del sole diversi vani dove riporre evidentemente bibite poi uno più grande un pozzetto qui che tra l'altro è refrigerato dove posso tenere anche dell'acqua e tenerla soprattutto fresca durante i lunghi viaggi e poi i sedili che mi sembrano molto ben profilati con il poggiatesta integrato abbiamo i forellini che stanno ad indicare che sono ventilati quindi sia riscaldabili che refrigerabili d'estate e allora adesso non rimane che dare un occhio anche qui dietro per capire chi si siederà qui quanto spazio può avere per le gambe del resto io ve lo ricordo la macchina non è molto grande 4 metri e 37 segmento c sì però piuttosto compatta ma di spazio in generale questo è il sedile sulla mia altezza o giù di lì devo dire che ce n'è ancora per le ginocchia forse un po' ingombranti questi grandi sedili che forse precludono un po' la vista di chi siede qui dietro però sul divanetto tutto sommato non manca nulla ci sono anche i led che arrivano ai posti posteriori i speaker firmati sony e poi non manca anche una bocchetta dell'aria che fa sempre gran comodo e due prese usb c a poi altra cosa qui in alto c'è il tetto panoramico o meglio il piccolo tettino in vetro che si può aprire elettricamente anche attraverso i comandi vocali quindi senza usare il pulsante e allora non manca che il bagagliaio che in questo allestimento all'apertura elettro attuata bagagliaio che in verità non è gigantesco sulla carta dovrebbe offrire qualcosa come circa 320 360 litri è stata un po' vaga o moda in questo caso ma noi di quattro ruote appena avremo la vettura al centro prove capiremo bene come è messo il bagagliaio a livello di cubatura al netto di questo mi sembra che comunque la struttura sia particolarmente regolare nella forma lo vedete e questo vuol dire che si possono incassare si possono infilare i bagagli sfruttando quasi tutto lo spazio qui sotto un doppio fondo per così dire piccolino basso rivestito in polistirolo e quindi consente di magari sistemare qualche oggetto non troppo grande e poi sedili che ovviamente si reclinano in questo caso solo in due parti e andando a fare un po' i pignoli posso dirvi che mi piace il fatto che ci siano i ganci i famosi ganci per ancorare eventuali elastici e quindi bagagli ci sono sulla moda e c'è anche poi la classica presa 12 volt nel baule e tra l'altro prima fermo al semaforo mi sono accorto di alette parasole decisamente particolari si apre lo sportellino c'è una bella cornice led ma si può scegliere se avere la luce calda o la luce fredda quanto sia utile questa cosa non lo so però è la prima volta che vedo questo dettaglio e allora eccomi qui dal volante per capire insieme a voi come va su strada questa omoda 5 allora pronti via io inizierei a parlare della posizione di guida che a onor del vero non mi ha convinto del tutto mi spiego meglio il volante ha una regolazione ovviamente in altezza e profondità però non è così ampia mi sarebbe piaciuto che si avvicinasse maggiormente al corpo e poi l'ho trovato un po' inclinato ecco l'avrei preferito gusto mio personale sia chiaro un po' più verticale oltretutto i sedili che sono a regolazione elettrica sia per l'altezza sia per lo schienale non hanno la regolazione della seduta che non si può inclinare quindi sostanzialmente si può solo andare su o giù detto questo come dire ci si deve un po' allontanare perché sennò le gambe stanno troppo rannicchiate però non si può portare a sé il volante magari una persona più alta del metro e 75 del sottoscritto potrebbe forse trovare una posizione più comoda per le sue esigenze apro subito il capitolo sospensioni ammortizzazione comfort in generale perché sui dossi sulle buche di milano la omoda 5 si è comportata piuttosto bene si comporta piuttosto bene continuo a prendere avvallamenti rotaie san pietrini e devo dire che il comfort a bordo è buono per la categoria di vettura questo teniamolo sempre bene a mente poi chiaramente ci saranno i numeri del centro prove che ci diranno esattamente come stanno le cose ma così a sensazione ad orecchio per così dire mi sembra che in questo senso i tecnici abbiano lavorato bene anche perché sono partiti da una base piuttosto buona solida come il mcpherson anteriore e il multilink al posteriore fermo qui al semaforo colgo l'occasione per dirvi che si percepisce qualche vibrazione allo sterzo derivata appunto dal quattro cilindri 1.6 lì sotto il volante ma davvero pochissima pochissima roba qualcosa di quasi impercettibile invece apro un ulteriore capitolo vero quello della cambio della trasmissione che per la cronaca è una trasmissione quindi un fornitore che costruisce trasmissioni per tantissimi altri costruttori anche molto blasonati e che in questo caso ha dato ad omoda per la 5 un doppia frizione a 7 marce che mi sembra si comporti piuttosto bene non si possono comandare i rapporti con i pedal perché non ci sono quindi è sempre tutto automatico però in un contesto cittadino come questo mi sembra proprio che abbia avuto una buona prontezza sia nello scalare sia nel infilare una marcia dietro l'altra ecco più in generale nessuna incertezza cosa che poi dà un po fastidio quando ci si muove in un contesto urbano non ho trovato invece così ben appunto il comando dello sterzo perché è sì molto leggero questo consente di manovrare la omoda 5 facilmente nella città e quindi parcheggi facilissimi però non mi rimanda non mi ha mai dato quella sensazione di sentire cosa succede sotto le ruote di avere perlomeno come dire un feedback un po più accurato di quello che sta succedendo sostanzialmente di dove sto mettendo le ruote ecco sembra tutto un po troppo filtrato e di sicuro nel suo segmento ci sono rivali ci sono auto che riescono a fare un po meglio da questo punto di vista parlando di comfort devo dire questa è un po la premessa di tutto questo primo contatto che si è svolto diciamo abbastanza velocemente non c'era così tanto tempo e quindi non c'è stata la possibilità di andare un po più nel dettaglio e soprattutto si è svolto in un contesto urbano e questo non mi ha permesso di capire bene come la omoda 5 se la cava per esempio in autostrada ma quello che posso dirvi è che in realtà anche nel traffico si percepisce poco l'intorno anche perché ci sono doppi vetri per i sedili anteriori quindi vetri laminati e tutto ciò come dire isola bene l'abitacolo e fa presumere probabilmente che anche in autostrada le cose siano piuttosto buone certo in quel caso bisogna anche valutare o bisognerebbe valutare la questione aerodinamica quindi specchietti frusci e quant'altro ma anche per quanto riguarda questo ambito io rimando poi alla prova dettagliata e poi ovviamente c'è il motore questo onestissimo direi 1600 turbo benzina che di sicuro non verrà ricordato per essere uno dei motori più prestazionali del suo segmento però fa il suo è abbastanza silenzioso anche in accelerazione vibra poco si percepisce come vi dicevo giusto qualcosina sul volante però è lato consumi che vorrei approfondire un po la questione ora in questo breve giro che tra l'altro è stato davvero breve il computer di bordo e ve lo dico in diretta ha assegnato 9,5 litri per 100 chilometri ora è un dato che sicuramente va preso con le pinze perché ovviamente ho beccato molto traffico ero in città per cui il consumo di sicuro non è quello medio complessivo che dà l'idea poi di quanto effettivamente sia assetata una vettura o meno però ci dà un'idea per capire un po dove si attesta questo motore a livello di sete certo è che a bordo dello moda 5 ti fai notare perché attira gli sguardi è un prodotto sicuramente nuovo che si conosce ancora poco tant'è che più di una persona mi ha chiesto cosa stesse guidando se fosse magari elettrica se fosse destinata al mercato italiano insomma un mezzo che in qualche modo desta curiosità e allora a questo punto io aprirei un'altra parentesi cioè quella dei motori visto che come vi dicevo in apertura l'omoda 5 è disponibile per il momento solo con il 1.6 turbo benzina da 147 cavalli e cambio doppia frizione automatico però prossimamente dovrebbe anche arrivare una versione totalmente elettrica e credo anche a detta di omoda vedremo poi più avanti anche una versione ibrida quindi è lecito domandarsi a questo punto dove si può comprare omoda allora al momento ci sono 63 una sessantina insomma di concessionari già in italia dealer meglio che si appoggiano ad altre tanti rivenditori entro la fine dell'anno diventeranno 80 per poi espandersi nuovamente e ancora più avanti superando anche il centinaio di punti vendita come vi dicevo giusto per fare un recap finale ci sono solo due allestimenti comfort e premium ballano 2000 euro tra i due ma siamo comunque sotto i 30.000 per avere poi un pacchetto decisamente ricco se state pensando a qualche rivale mi viene in mente così subito pronti via per esempio mg e allora a questo punto come al solito io vi faccio la domanda di rito ve la mettereste in garage l'omoda 5 come vi è sembrata e soprattutto scegliereste lei o per esempio un mg allora ditemi qui sotto come la pensate scatenatevi nei commenti e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao